L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria, ed è la concepì per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compie in me la tua parola. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne, e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, oh Padre. Tu che all'annunzio dell'Angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo adesso con la supplica alla Madonna di Siponto. O Maria piena di grazia, Madre di Dio e della Chiesa, generazione di credenti, si sono rivolte fiduciose a te, con il titolo di Vergine Santissima di Siponto. Guarda a noi, tuoi figli, in questo tempo di preoccupazione e di sofferenza, per il contagio che alimenta la paura, ostacola le relazioni ed impedisce la normalità delle giornate. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Tu che sei uscito dalla tua casa per essere vicina ad Elisabetta, soccorrici nella nostra fragilità. Visita i malati, illumina le scelte delle famiglie ed ottienici dal figlio tuo, Gesù Cristo, la liberazione dall'epidemia che ci sta minacciando. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Madonna Santissima di Siponto, veglia sul tuo popolo. Dona sapienza ai governanti e agli amministratori, perché sappiano prendersi cura del popolo affidato alla loro responsabilità. Sostieni chi si spende per i bisognosi, i volontari, gli infermieri, i medici che sono in prima linea nel curare i malati, anche a costo della propria incolumità. Ottienici dal Signore la benedizione della Chiesa, a partire dai Suoi ministri, rendila segno e strumento della tua luce e della tua bontà. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. O Maria, consapevoli dei nostri peccati, ci affidiamo a te, Madre di Misericordia. Accresci la nostra fede, accompagna le famiglie, rinsalda l'armonia tra i genitori e i figli, preserva gli anziani dalla solitudine, fa che nessuno sia lasciato nella disperazione dell'abbandono e dello scoraggiamento, intercedi per i poveri. O Vergine Santissima di Siponto, accogli le nostre preghiere e risplendi sul nostro cammino come segno di salvezza e di sicura speranza. Amen. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsu dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio Gesù il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce vergine Maria. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, e Figlio, e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio.